Guarda a costa detenere un homer per la posizione di arma di candela e tambi a confisca. E' armi e' entrega i sacchi in la polizia. Tampata di ora di eratare, il personale di guarda a costa vai patendo un controllo. E' ripetendo una baia e tambi nel costa, una bentopa con un veicolo staciona. Ma sopra spiega l'occupante che tu vai tenendo un controllo del veicolo e tambi arriva su un mese per la posizione di arma e off-droga. Durante il controllo è bentopa che il chauffeur del veicolo è di una posizione di un arma di candela con bala di nge. Ma sopra arma di candela che da confisca e tambi a explica il sospechoso che da detenere la posizione ilegal di un arma. A pide assistenza di polizia, una baia guarda che sospechoso passi in assi mass' investigazione che sa che porti un permit per portare un'arma di candela qual è notata da tenuto con lui. Mas la despesia di assi investigazione e abbiaia sa che un hombre non ti un permit per portare un'arma di candela abbia in su casa che da den caia con su leia una listra però non ha bentopa con nada particolare e canso da den investigazione.